Ora andiamo a Norbello dove questa mattina è stata inaugurata la nuova palestra comunale. L'attesa della nuova struttura che si trova alla periferia del paese è durata più di dieci anni. Mariangela Lampis. Scolaresche è in prima fila. La palestra comunale è una conquista dedicata soprattutto a loro. Tanti anni, diverse amministrazioni a Norbello impegnate a trasformare in definitivo un progetto esistente solo sulla carta. Oggi è la società tennistavola a utilizzare per la prima volta gli spazi nel giorno dell'inaugurazione. Ci sono venuti complessivamente oltre dieci anni perché ha seguito il progetto fase alterne di finanziamenti che venivano a rate, di problemi con le imprese appaltatrici, però oggi sono finalmente una realtà. Finanziamento complessivo? Finanziamento complessivo è di circa 700 mila euro. Parte con finanziamenti regionali e parte invece con finanziamenti che provengano dal bilancio comunale. Dopo oltre dieci anni quindi traguardo raggiunto resta però l'incognita della gestione. Il problema della gestione è un problema molto importante perché vedete anche il tipo di struttura che è e che ha necessità. Intanto che venga sfruttata al massimo delle sue potenzialità, che soddisfi le varie categorie di utenti e quindi che sia fruibile al maggior numero possibile di persone. E poi c'è il problema ovviamente del soggetto che ne dovrà curare la gestione. Non credo che questo possa essere fatto direttamente dall'amministrazione comunale, ma ci dovrà essere un soggetto che ha la responsabilità della gestione e con quale soggetto l'amministrazione comunale firmerà un'apposita convinzione.